La pace, 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 schifo la guerra, non più guerre, la seconda della scuola Leonardo da Vinci, questi sono i miei compagni, siamo qua a manifestare per la pace, noi crediamo nella pace, la pace deve essere dappertutto, viva la pace! Oggi è una grandissima giornata, speriamo che tutti questi bambini danno il via per iniziare una pace, non solo in Ucraina ma in tutto il mondo, perché è la prima volta che succede che tutte le scuole di Saronno partecipano a una manifestazione in piazza. E questo vuol dire molto. Il fatto che ci siano oggi bambini, ragazzi, giovani, eccetera, dà un tono particolare a questa manifestazione, perché è evidente che sono nuove generazioni che devono essere quelle che poi, se avranno raggiunto la consapevolezza giusta del problema della guerra e della pace, potranno portare avanti le necessarie battaglie. Siamo! 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 Siamo!